Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione ancora di Filippo Glorioso. Un cordiale buongiorno agli amici e amiche radioascoltatori e radioascoltatrici da Filippo Glorioso, come sempre alla console il nostro grande personaggio, il quale stamattina si è tolto il cappello perché c'è un po' di vento, ha paura che il cappello voli, parliamo dell'amico Santi. Ciao Santi e grazie come sempre per la tua fermida collaborazione. Vi ricordo che stavo ascoltando Carta e Penna, programma che va in onda anche giovedì, dalle 12 alle 13 circa, con personaggi in studio, a volte parleremo di politica, a volte parliamo di cronaca, a volte parliamo anche di medicina, di scienze, di cinema, di musica, di cultura in generale. Oggi affronteremo un discorso politico che mi sta particolarmente a cuore per farci capire a tutti quanti voi, insieme a me, in che direzione stiamo andando, che cosa c'è che non va. Ma spesso guardando i parincesti televisivi si vede molta politica, da porta a porta, da raffinare alla sette, insomma tutte le sere ci sono delle bagarre così definite, oltre a quello che è successo l'altro giorno nella Camera dei Deputati. Ne parleremo in studio con un personaggio che adesso vi presenterò. Intanto potete interagire con noi chiamando lo 0921 92 32 92 per fare le vostre richieste discografiche, oppure mandateci un sms o altrimenti potete interagire anche su Facebook chiedendoci l'amicizia, quindi ascoltandoci direttamente anche con la streaming. Siamo in diretta, rigorosamente in diretta, sono le 12 e 11 in questo momento al mio voce. Io presento subito, senza perdere ulteriormente tempo, un amico, ma presento anche un portavoce, tra virgolette, vi spiego perché, perché vi parlo dell'amico Daniele Di Buono, attivista portavoce del Meetup, il Grillo di Castelbuono, del Movimento 5 Stelle, appunto del medesimo comune. Ciao Daniele, grazie per aver accettato l'invito. Ciao Filippo, ti ringrazio per lo spazio che mi stai e ci stai dedicando. Colgo l'occasione per salutare tutte le radiascoltatrici, i radiascoltatori, nonché in particolare tutti gli attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Ecco, io mi associo al tuo saluto. Allora, spero siano numerosissimi collegati al nostro sito, sia su Facebook, ma ci possono seguire in diretta streaming. E voi di questo, insomma, siete maestri. Allora Daniele, cominciamo dall'inizio, dalla Genesi, come se studiassimo la Bibbia in poche parole, è una Bibbia nuova, scritta a quattro mani. Avete voi stravolto il modus operandi di far politica. C'è una politica nuova senza una sede partitica, se così vogliamo, vecchio stampo, no? Una volta c'era l'ADC, il PSI, ogni paese c'erano le varie sezioni. Voi avete innovato totalmente, stravolgendo quelle che erano i palinzesti di un tempo di far politica. Avete fatto politica a 360 gradi in maniera nuova, diretta, con il pubblico che interagiva con voi su streaming. Ma una domanda mi sorge spontanea. Siccome in primi tempi non era facile, anzi per nulla facile, che qualcuno di voi, deputati, senatori, portavoci, partecipaste alle trasmissioni televisive, dove i salotti, insomma, erano colmi da destra a sinistra, dal PD a Forza Italia, al PDL una volta chiamato così, e tantissimi altri, dal SEL, insomma, tutta la rappresentanza parlamentare, ad eccezione, eccezione fatta per i 5 Stelle. Perché questa scelta? Allora, innanzitutto io voglio precisare che sono qui in qualità di cittadino che si rivede nei principi ideali del Movimento 5 Stelle. Non rappresento esclusivamente il Movimento 5 Stelle, ma ritengo che ognuno di noi che sposi le sue idee ne faccia parte. Per quanto riguarda la domanda che mi rivolgevi tu, c'è stata una scelta che inizialmente è stata adottata perché purtroppo spesso e volentieri nei talk show il livello di comunicazione è più portato verso uno scontro che è un dibattito vero e proprio attraverso cui l'interlocutore ha la possibilità di esprimere ciò che vuole dire realmente. O per meglio dire, forse, stavi dicendo bene, ma c'è il discorso, forse, secondo me, vedendo la televisione dalla poltrona, quindi da questa parte delle telecamere, che magari il conduttore a volte è fazioso, cioè nel senso che dirige la discussione più verso determinate fazioni politiche e non verso gli altri, cioè dando maggiore spazio all'uno e meno all'altro. Questo che, in sostanza, ho colto questa impressione. Io non sono le 5 Stelle, attenzione, è bene specificato, sono super partners. Prego. Purtroppo sì, purtroppo in passato, ma anche purtroppo devo dire ancora tutt'oggi, nonostante il Movimento 5 Stelle abbia deciso di cambiare profilo nei riguardi dei media, perché comunque ci siamo, si sono resi conto che in qualche maniera la televisione rimane il primo mezzo d'impatto attraverso cui gli italiani hanno un confronto. Anche se noi riteniamo che i mezzi più utili e necessari sono quelli dei quali utilizziamo. E il web, in poca parola. Però c'è il quiproquo, perché gente anziana, 70 anni, 80 anni, ma anch'io che ne ho 55, sì, vero, ho il computer, magari vado su internet, magari vedo Facebook o interagisco con Facebook, però poi non sono così tecnologico come i ragazzi di oggi, no, della quinta elementare, rezza elementare, c'è ragazzini che veramente ti smontano un computer. Allora, secondo me, bisognava un attimo dall'inizio vedere forse, rivedere un po' questa posizione di partecipazione da parte vostra, se non fosse altro col portavoce, di partecipazione televisiva. Quindi questo è stato un po' l'andazzo dall'inizio, poi via via, insomma, le cose. Avete cominciato a sistemarle in maniera un po' diversa, no? Sì, così è stato. Infatti ora vedete più frequentemente i nostri portavoce in televisione. E comunque, ritorno a dire, se mi posso permettere di dare un consiglio, soprattutto ai telespettatori, anche nel visionare questi talk, queste trasmissioni televisive, e di cercare di discernere ciò che viene propinato al telespettatore, soprattutto andando al di là del messaggio della trasmissione e dei partecipanti a esso. Io faccio un esempio, spesso e volentieri, di guardare le immagini che vengono riportate nei widi wall delle trasmissioni televisive quando vengono rappresentati i leader delle maggiori forze. Soprattutto tendo a sottolineare che spesso e volentieri Beppe Grillo, che è il nostro megafono, viene riportato con fotografie in cui risulta con un'immagine aggressiva, mentre spesso e volentieri gli altri leader vengono riportati con immagini tranquille. Anche questo è un messaggio, per certi versi, subliminale nei confronti dei telespettatori. Diciamo che, come ben sappiamo, la televisione utilizza molto questi metodi per, certe volte, veicolare anche i consensi o le sensazioni in chi guarda la televisione. Adesso passiamo un attimino, via via, facciamo un escursus della storia dei Cinque Stelle e quindi andiamo a parare alla nostra regione siciliana. Perché questo? Perché c'è un dislivello enorme tra quello che è successo fino a qualche tempo fa alla regione siciliana con il presidente Crocetta, nel senso che voi siete entrati in maggioranza, l'avete appoggiato in alcune situazioni, cose che invece avete negato del tutto a priori, facendo un discorso di out-out nei confronti dell'ex segretario del PD che voleva formare il primo governo post-Monti. Come mai in Sicilia è stato possibile aggregare le Cinque Stelle all'interno della maggioranza di governo regionale, con il presidente Crocetta e invece con l'ex segretario del PD, poi sapete quello che è successo, sapete meglio di me, avete interagito con streaming di davanti e il suo invito del PD dice che noi abbiamo sempre invitato i grillini a far parte della maggioranza di governo, a formare il governo e quindi far parte con qualche ministro e sottosegretario. Ma voi a prioristicamente avete steso un velo pietoso, avete detto no, stop, senza possibilità di altre possibilità di dialogo con il PD in quel momento che era il partito di maggioranza relativa. Allora vorrei precisare innanzitutto che il Movimento Cinque Stelle Sicilia non fa parte del governo di maggioranza di Crocetta. Allora parliamo nello specifico, il Movimento Cinque Stelle ha sempre detto che appoggia le buone idee. Allora ci sono state delle proposte da parte di Crocetta di fare entrare il Movimento Cinque Stelle nella maggioranza di governo, ma così non è, perché come sappiamo è diverso il sistema rispetto al Parlamento, in cui in Parlamento va votata la fiducia mentre in Sicilia tutto ciò diciamo non è necessario. Allora per dirla tutta, qui qualche appoggio l'avete dato. Noi diamo appoggio e votiamo. Invece perché a Roma non avete portato nessun appoggio, cioè eravate chiusi totalmente al dialogo con il PD. Allora vorrei fare un breve scursus E' per capire, non è, voglio dire, è per capire noi, come mai in Sicilia con Crocetta, ok che anche lui fa parte del PD, poi le correnti lasciamo stare, quelli che tengono ai fiumi, ai mari, eccetera. Adesso scusa la battuta. Ma per quanto attiene il governo nazionale tutti hanno visto che insomma l'ex segretario del PD aveva cercato in tutti i modi di convincere voi a sedervi sul tavolo delle trattative. Cos'è che non ha funzionato lì? Allora da premettere voglio fare un brevissimo escursus sulla campagna elettorale che ho seguito e che abbiamo anche effettuato a Castelbuono in presenza di quelli che poi adesso oggi sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Noi il nostro motto era tutti a casa perché noi ritenevamo e riteniamo ancora tuttora che non si ci possa fidare di coloro che hanno portato l'Italia da destra a sinistra a questo stato attuale. Allora vorrei precisare che allora quando Bersani chiese di fare un governo insieme al Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle ha posto dei punti a Bersani quale in primis la rinuncia ai rimborsi elettorali. Mi ricordo i famosi otto punti invece del PD per esempio nel quale in realtà non parlava di una rinuncia ai rimborsi elettorali ma parlava di una revisione come parlava soltanto di un vedremo di ridurre i parlamentari. In sostanza la nostra richiesta non c'era la certezza matematica che avrebbe raccolto le vostre proposte e quindi farle proprie insieme alla maggioranza che si sarebbe formata dopo. Mi urge un'ulteriore precisazione chiunque su internet può andare a vedere i video di Bersani che durante un'assemblea pubblica e della deputata o senatrice mi perdonate se mi sbaglio Sereni che a porta a porta entrambi dichiararono che non era loro intenzione di fare alcun governo con Grille e il Movimento 5 Stelle loro volevano solo i voti della fiducia tale che gli permettessero di far partire il governo. Chiaro il concetto la motivazione per la quale voi non accettaste in quel tempo lì di sedervi al tavolo delle trattative con allora il segretario Bersani poi sappiamo tutti cosa è successo Bersani ha fallito in tutti i fronti su tutti i fronti grazie anche ai franchi tiratori del suo stesso partito i quali hanno affossato ben tre nominativi come Presidenti della Repubblica quindi questo va ricordato all'onor di cronaca bisogna dare atto comunque al Movimento 5 Stelle nazionale ma soprattutto regionale i quali non solo hanno rinunciato correggimi se sbaglio ai rimborsi elettorali cominciamo da qui ma avete restituito almeno alla regione siciliana ben 240 mila euro se non erro di stipendi che voi vi siete autotagliati sì e che attualmente ancora avviene sia per i deputati regionali che per i deputati nazionali ricordiamo che in Parlamento si è riuscito a ottenere un conto corrente in cui confluiscono la parte dell'indenità restituita da parte dei parlamentari questo conto corrente è a disposizione per i progetti delle piccole e medie imprese che è la stessa cosa che è stata effettuata in Sicilia con il conto per il microcredito dei parlamentari siciliani detto fatto ci sono degli altri argomenti diamo velocemente perché comunque in un'ora di tempo non possiamo abbracciare tutto cercheremo poi magari in futuro di avere altre possibilità con altri con altri partecipanti anche deputati regionali se è il caso perché è interessante capire cosa come la pensa Berlusconi come la pensa l'attuale presidente del segretario del PD Renzi che per certi aspetti potrebbe anche però ci sono dei grossi punti interrogativi Daniele ti spiego una cosa io stamattina ho incontrato dei ragazzi relativamente giovani 32-33 anni nei miei confronti sono ragazzi il quale mi ha fatto vedere sul suo portatile è entrato su Facebook e c'era un discorso di come dire di diabulia cioè nel senso di gente che si è ormai rassegnata ecco di rassegnazione di un comune in provincia di Caltanissetta dove manca l'acqua pensate da sette giorni però una fontana sgorga tutti i giorni H24 acqua questa è la come dire la normale storia della nostra Sicilia per non dire l'Italia ma soprattutto della nostra Sicilia e allora davanti al fatto che nessuno si ribellasse in quel comune c'è stata un'amica di Castelbuono che li ha attaccati ma svegliatevi datevi una mossa rivoluzionate il vostro comune cercate di cambiare le regole del gioco eccetera eccetera successivamente a questa provocazione il ragazzo entrò in un video sempre su Facebook e tirò fuori un pezzo straordinario a mio modo di vedere del film di Sergio Leone non so se te lo ricordi giù la testa c'era un dei due cowboy il più letterato che stava leggendo un libro si rivolge verso lo zappatore cioè il contadino la persona ignorante nel senso che non aveva cultura dicendo ma tu dovresti amare il tuo paese tu dovresti fare questo per il tuo paese perché è il governatore del tuo paese sapete cosa ha risposto ed è attualissima la risposta ed è molto attuale questo signore rosamente si alzò e disse allora non mi parlare di rivoluzione perché ogni qual volta c'è una rivoluzione funziona così che la gente che è culturalmente preparata che legge libri si rivolge verso chi è ignorante cioè la gente che non ha studiato e dice che bisogna cambiare le cose bisogna cambiare perché così non va bene si siedono attorno a un tavolo mangiano e parlano parlano e mangiano mangiano e parlano sostanzialmente non cambia nulla quindi si cambia nel senso che bisogna cambiare però chi va poi al posto di quelli resta sempre la stessa punto di domanda perché ho raccontato questo fatto cioè questo film e mi è piaciuto il modo di esprimersi di quell'attore in quel momento dicendo che si mangia e si parla si parla ma chiunque va a sedersi in quel tavolo poi va a finire tra luce e vino punto di domanda fin qui i grillini hanno mantenuto le promesse fatte ai propri elettori nel momento nel quale per ipotesi il partito il movimento 5 stelle dovesse arrivare al governo nazionale quindi con il 50 passato il 37% che la sbarra la soglia da raggiungere per avere poi il premio di maggioranza quindi avere il 51% se non ricordo male penso che sia così la situazione a quel punto ipoteticamente quello che dice quell'attore una volta che voi vi sedete attorno al tavolo per formare questo governo finisce anche l'Italia luce e vino tu pensi che possa essere così perché sappiamo in Italia i poteri forti che ci sono ovviamente ecco secondo te come potrebbe finire invece se i 5 stelle riuscissero ad arrivare da soli a governare lo Stato italiano ma io credo che se innanzitutto dovesse passare questa attuale legge riforma elettorale proposta da due leader in maniera extra parlamentare perché ricordiamo che non è stata proposta in Parlamento all'intero Parlamento ma un incontro nella sede del PD che comunque come sapete ha creato non molti anche dissenze all'interno del Partito Democratico io ritengo che questa riforma elettorale non permetterà al Movimento 5 Stelle di poter andare a governare soprattutto perché anche io sostengo che questa legge elettorale è stata fatta appositamente per tagliare fuori il Movimento 5 Stelle io personalmente da cittadino perché vedi il passaggio che hai fatto tu sul il pezzo del film Giù la testa non è tanto differente dal messaggio che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle vuole diffondere tra i cittadini italiani perché se io sono qui non sono qui perché qualcuno mi ha detto di venire a nome del Movimento 5 Stelle io sono un cittadino che ha iniziato a seguire Beppe Grillo dal 2005 ha iniziato ad aderire e a sposare le idee del Movimento 5 Stelle che comunque sono le idee fondamentalmente fondamentalmente a base del bene comune di tutti i cittadini sono cose che fondamentalmente pensano molti molti cittadini quegli stessi cittadini che purtroppo oggi sono delusi da una classe politica che da vent'anni a questa parte ci ha portati a livello in cui siamo quindi io non so risponderti se noi con questa legge elettorale potremo mai prendere la maggioranza e andare al governo posso dire che però in ogni caso noi attualmente sul portale del Movimento 5 Stelle stiamo votando studiando valutando la nostra riforma elettorale proprio oggi nel portale del Movimento 5 Stelle tutti gli iscritti e certificati del Movimento 5 Stelle stanno votando per la scelta tra il proporzionale puro e il proporzionale corretto quando la nostra riforma sarà pronta noi la porteremo in Parlamento e la proporremo alle altre forze politiche che sceglieranno se valutarlo o meno devo farti una domanda a questo punto si provocatoria questo te lo dico in anteprima nel rispetto che io ho verso la persona e verso le tue idee ci mancherebbe altro correggimi se sbaglio no? in Parlamento sono successe tante situazioni adesso ne parleremo nel merito però per esempio io non ho visto da parte di nessuno di nessun movimento o partito politico fare delle bagarre in Parlamento per dire al governo in carica in questo momento ci sono due militari italiani che rappresentano la nostra patria che sono vilipesi sono vilipesi in India sotto ricatto sotto scacco il nostro governo stiamo facendo una figura di bip non voglio dire la parola perché poi sono in radio non è corretto dirla e nessuno in Parlamento alza un dito o tira fuori una striscione o fa casini per dire il nostro governo deve tirare su le balle per andare a dire al governo indiano signori miei qui il discorso è questo o voi fate così e anche agli ideati europei in questo caso visto che il nostro governo è debole e spetta anche un po' all'opposizione dico tutti in generale ma anche voi del 5 Stelle dovreste un attimo fare una bella bagarre su questo aspetto perché guarda gli Stati Uniti se gli tocchi un Marins sono cavoli amari i tedeschi se gli tocchi un militare sono cavoli amari stessa cosa francesi e spagnoli noi non abbiamo questo senso di patria io non ho capito per quale motivo e allora io te la lancio qui fa la tua questa promozione e vediamo cosa esce fuori allora ti dico già a priori che quello che hai detto in realtà non c'è stato una bagarre in aula da parte del Movimento 5 Stelle ma l'interesse da parte del Movimento 5 Stelle c'è stato i nostri portavoce so che si sono interessati visto e considerato che è mi meraviglia che il ministro Bonino che ha sempre sposato battaglie per i diritti umani non abbia avuto fino adesso quel cipiglio quel particolare interesse per questa vicenda ma basterebbe scusami è la prima volta nella storia internazionale questo è grave per la prima volta nella storia politica e diplomatica internazionale non esiste che un paese chiunque questo sia sequestri sequestri un un ambasciatore noi abbiamo avuto sotto sequestro a casa propria nel nostro territorio e quelli territori italiani l'ambasciatore lo sai meglio di me è stato ritirato il passaporto di fronte a queste cose gravi di mancanza di riguardo e di rispetto prima per il popolo italiano e poi per la classe politica italiana bene vi bisogna in Parlamento ma fare il casino che avete fatto l'altro giorno e poi adesso ne parleremo credo che tu sposi in pieno la mia tesi l'hanno fatto i nostri portavoce perché non so se già si sono recati in India proprio per occuparsi della presenza parlamentare sì per andare a trovare i nostri marò in Parlamento è che il problema che giustamente le i media tendono a generalizzare e a non specificare che anche il Movimento 5 Stelle ne ha preso parte no no su quello io lo sapevo no gradirei ecco da questo punto di vista che l'opposizione lasciamo stare forse tali un attimo ma che l'opposizione lo zoccolo duro dell'opposizione quindi sel voi gli estremi ecco battessero maggiormente i pugni da questo punto di vista anche il cittadino può essere si mette a disposizione perché al cittadino fa male dire ma io sono italiano ma siamo di classe C di classe B che classe siamo che classe siamo dunque detto questo ci fermiamo un attimo vediamo i consigli per gli acquisti ritorneremo però a parlare di bagarre perché capiremo un attimo non volevo istigare il Movimento 5 Stelle a far succedere il filimondo in aula perché è già successo e addirittura con sverde poi ci sono state anche delle denunce per le diffamazioni e quant'altro ne parliamo tra poco linea alla regia intanto ci riposiamo 5 minuti 12 le 12.45 quasi mancano 4 minuti allora siamo di nuovo in diretta con Di Buono che è un attivista del Movimento 5 Stelle vado a dire che poi nei prossimi giorni è chiaro che devo sentire anche le altre campane è ovvio perché comunque come succede in televisione bisogna dare spazio a tutti chiaramente se in Sicilia non esiste se non devo andare a prendere giovedì si si fanno giovedì le trasmissioni e il fonico ogni tanto interagisce nella trasmissione la voce si sente anche in espanza qui in stanza dicevo bisogna capire il pensiero anche degli altri per esempio sulla legge elettorale io ho un mio pensiero che è quello che bisogna dare il voto alla gente cioè dare la possibilità a chi va a votare di scegliere i propri candidati quindi non entriamo perché se no ci perdiamo nei meandri con la legge elettorale abbiamo già detto che è stata fatta da questi due personaggi che sono le due forze maggiori in Parlamento quindi il PD con la sua percentuale di voti e il partito di Berlusconi Forza Italia così adesso si richiama un'altra volta con l'altra potenza e si trova all'opposizione si sono incontrati hanno pensato bene di tirar fuori questa che a me sembra voglio dire e lo posso dire tranquillo un porcellum al quadrato cambiano poche cose ma insomma il succo quello è il popolo non ha voce in capitolo e su questo io la penso in questo modo a me piacerebbe molto dare le preferenze fatta questa premessa sulla legge elettorale l'altro giorno guardando facendo zapping col telecomando mi sono fermato alla Camera dei Deputati dove è successo di tutto e di più su una cosa non sono molto d'accordo sul fatto di vi dipendere una persona comunque essa sia comunque la possa pensare cioè che sia di centro-sinistra che sia gridina che sia di centro-sinistra del sello o dell'UDC è sempre una donna un essere umano in quanto tale va rispettato allora non siete state voi ma mettere una donna sul blog e poi lanciare tutti quegli improberi anche ad allusioni voglio dire sessuali a sfondo sessuale capisci che diventa una cosa insomma agli occhi del mondo a livello internazionale non ci facciamo certo una bella figura perché comunque una cosa è chiedere l'impeachment per il Presidente della Repubblica è un iter legale che si fa all'interno del Parlamento ed è una cosa che si può fare se c'è la ragione veduta non si accetta se non c'è ragione veduta ma è una cosa di dipendere il Presidente della Repubblica sotto il profilo sessuale questo è insomma non è accettabile da nessun punto di vista penso che tu concordi con quello che dico io quindi è deprecabile questa cosa per quanto attiene invece la Baldoria mi è sembrato di capire che la cosa è successa perché hanno accorpato cioè hanno messo insieme facendo passare la legge sia del non pagare l'ICI se non ricordo male l'IMU e quindi con questa scusa però si sono dati 7 miliardi eccetera anche se poi si è detto che non è che sia un grandissimo aiuto alle banche però in un momento di depressione in un momento dei portafogli italiani svuotati delle massaie che non riescono a fare più la spesa di gente che non riesce a dare il latte ai propri figli e che si trova in mezzo alla strada disoccupata tra questi mettiamo anche gente che noi conosciamo e quindi chi meglio di noi può capire le situazioni che ci sono in questo momento in tutta Europa ma soprattutto in Italia non era il caso che si facesse questo connubio magari se ne discuteva prima in Parlamento e poi se era il caso si dava l'aiuto che poi ripeto diviso per tutte le banche che ci sono in Italia sono voglio dire sono come se ci dividessimo mille euro dieci persone però sempre un aiuto è mentre le aziende quei 40 miliardi non sono ancora neanche pervenuti e l'aiuto non è stato ancora dato soprattutto nello sgravo fiscale detto questo da dove è partita la scintilla di quella scazzottatura avvenuta in Parlamento deprecabilissima tra l'altro dobbiamo partire dal presupposto che il decreto IMU Banca Italia è stato proposto da parte del Movimento 5 Stelle di essere scisso e votato separatamente perché se andiamo a considerare l'importo dell'IMU rispetto a quello dato con le banche l'apporto dell'IMU è inferiore il Movimento 5 Stelle quel giorno rappresentando i cittadini italiani si indignò a tal punto da fare questa scelta che poi il tentativo fu una una protesta pacifica di scendere giù nella sala del Parlamento cosa che però purtroppo poi ha dato seguito a reazioni magari scomposte da parte anche di altri deputati presenti e in particolare vorrei ricordare quello del deputato D'Ambrosio che era sì addetto alla vigilanza diciamo come questore però non era un suo dovere perché ci sono i commessi alla Camera dovevano intervenire loro e lui con molta e troppa vehemenza ha colpito la nostra portavoce Loretana Lupo alla quale in ogni caso io vorrei esprimere da cittadini italiani in ogni caso la solidarietà a tutte le parti istituzionali dalla Presidente Boldrini anche al Presidente della Camera della Repubblica scusate verso il quale in ogni caso io pongo delle critiche nei confronti del nostro Presidente critiche che comunque sono quelle condivise dal Movimento 5 Stelle come anche vorrei esprimere la solidarietà alle deputate del PD che in quel momento di concitazione sono state offese dal deputato del Movimento 5 Stelle che però voglio dire anche a sua volta ha ricevuto epiteti ingiuriosi quale fascista pur dichiarando che detto a lui il quale suo nonno era stato deportato nella seconda guerra mondiale si sentiva anche lui offeso in particolare il deputato De Rosa è stato denunciato dalle deputate del PD in corso inchiesta della magistratura e il deputato De Rosa però ha dichiarato che rinuncerà all'immunità parlamentare per farsi giudicare come un comune cittadino come è giusto che sia provvedimenti sono stati presi sono in corso nei confronti dei deputati che sono scesi appunto nell'aula certo mi viene il dubbio che la celerità di questi provvedimenti oggi come oggi vengano presi quando in realtà ci sono personaggi come ricordiamo Berlusconi che è stato condannato in via definitiva e ancora non si sa se e come dovrà scontare la sua pena senza dimenticare che anche anche se in primo grado lo stesso Renzi ha una condanna per danno era reale però dico non voglio non sono qui per fare polemica perché anche io o per certi versi da cittadino ho condannato quello che hanno fatto e anche lo stesso Beppe Grillo ha detto che noi dobbiamo cercare di evitare queste cose perché sappiamo benissimo che verranno strumentalizzate giocano contro anche perché se un ragazzo che sta crescendo nella fase di pubertà va a vedere un ma chi anche un un ottantenne insomma va a vedere che i nostri rappresentanti nella Camera o al Senato poi fanno queste cose insomma capite che ci incentivate vorrei fare un'ulteriore precisazione noi riteniamo gravissimo il Movimento 5 Stelle ritenere gravissimo quello avvenuto quel giorno nella aula della Camera perché comunque è stata applicata il meccanismo della tagliola da parte del Presidente Boldrini che fino ad ora non era mai stato applicato e quindi è stata tolta la parola all'opposizione che non è potuta più intervenire perché per paura che se i tempi si fossero dilungati sarebbe caduto quel decreto che come dicevamo poco fa è stato accorpato ti devo fermare perché sennò poi rischiamo di annoiare la gente con le cose tecnocratiche riguardanti la politica io solo sul video volevo dire una cosa sul video volevo dire che purtroppo quel video in realtà era un video ironico e statitico però purtroppo l'errore è stato secondo me pubblicarlo dando vita a quei commenti ingiuriosi poco edificanti che ritengo non siano stati fatti sicuramente da attivisti del Movimento 5 Stelle no ma se ci è giocato un po' su sicuramente magari possibilmente vengono fatte anche da persone che vogliono screditare il Movimento 5 Stelle e quindi di conseguenza danneggiare il Movimento e su questo avrei molto molto altro da dire ma non non mi sembra il caso sul tema della democrazia caro Daniele io presumo che in Italia c'è molta strada da fare sicuramente sia dal punto di vista di parlamentari nel senso la stessa parola dice parlamentare cioè parlare non bisogna mai scendere non è il caso vostro dico non bisogna mai scegliere da nessuna parte politica scendere a fattori dirompenti bisogna sempre comunque accettare il dialogo nel rispetto reciproco delle proprie posizioni politiche ci mancherebbe ognuno di noi abbiamo il nostro modus operandi e abbiamo i nostri pensieri io posso essere di centro-destra devo essere gridino però se ci sono dei fattori di convergenza ecco discutiamo su quelle non per forza deve esserci lo scontro né verbale né fisico secondo me dovremmo un attimo emulare gli Stati Uniti dovremmo un attimo emulare i tedeschi cioè guardare oltre Alpe e vedere cosa succede nei paesi i nostri satelliti vicinori e capire perché loro vanno avanti e noi invece restiamo indietro lo sappiamo benissimo noi non facciamo altro che ostruirci uno con l'altro fare dell'ostruzionismo pur di non riuscire a far vincere nessuno a questo punto non vince proprio nessuno non vince nemmeno il popolo il quale ha necessità di essere governato e ha necessità di tirarsi fuori dal barato dove siamo caduti però a tal punto vorrei precisare che quella del Movimento 5 Stelle che spesso viene passata come ostruzionismo in realtà ma non era riferita a voi voglio precisare che spesso e volentieri il Movimento 5 Stelle ha votato anche emendamenti degli altri partiti però di contro gli emendamenti del Movimento 5 Stelle non vengono né considerati né votati sol perché sono del Movimento 5 Stelle e vorrei ricordare quello sugli F-35 sull'abolizione del Lira per le imprese purtroppo non vengono ritenuti plausibili per il semplice motivo che sia il Movimento 5 Stelle sul linguaggio che viene sempre accusato anche il Movimento 5 Stelle ma non solo io vorrei ricordare che il linguaggio è stato utilizzato anche in passato da eminenti esponenti italiani tra cui vorrei ricordare Sandro Pertini che durante l'emanazione della legge truffa apostrofò il presidente del Senato con lei un porco e poi sono sempre esseri umani insomma la battutaccia ma infatti la reazione alla Camera secondo me è stata più una reazione emozionale da parte dei deputati che sinceramente come qualsiasi cittadino che si trova il ladro in casa reagisce e anche se comunque dico l'esempio io guardo il watch perché so che tu hai gli impegni quindi tendiamo a chiudere con due o tre battute al finale c'è un'accusa che vi viene mossa da parte di chi è di lunga data siede di lunga data sia al Senato che alla Camera dei Deputati quindi di grande formazione politica nei vostri confronti c'è questo punto interrogativo da parte di questi signori che insomma sono i decani i depositari della politica italiana ormai si siedono lì e mangiano e parlano parlano e mangiano per paraporsare il film di cui facevo prima di Sergio Leone che secondo me è stupefacente come è attuale questa cosa questo è un film che ha 25 anni e pensate l'attore dice queste cose che sono ancora nel 2014 attualissimi si pensa erratamente erroneamente certo ci possono essere dei parlamentari dei senatori di 5 stelle che non abbiano avuto almeno all'inizio quella preparazione politica per affrontare per poter parlare davanti ai microfoni per sapere cosa dire eccetera eccetera su questo voglio dire non c'è da farsi meraviglia però vi si accusa spesso di essere poco preparati questi giovani di questi sbarbatelli che si sono affacciati nel mondo della politica non hanno esperienza come rispondi a questa domanda ma io rispondo semplicemente che mi pare che ultimamente il Movimento 5 Stelle ha dato prova di avere persone all'interno molto preparate faccio riferimento a Luigi Di Maio Alessandro Di Battista Paola Taverna che sono ragazzi della mia età che hanno imparato e imparano ogni giorno e hanno una conoscenza molto elevata l'altra sera a porta a porta Luigi Di Maio è riuscito a tenere testa ricordiamo che è il vicepresidente della Camera il vicepresidente della Camera ha tenuto testa una deputata del PD dimostrando la sua preparazione e che il Movimento 5 Stelle non è composto esclusivamente da mi verrebbe da utilizzare il termine che è stato utilizzato recentemente dalla stessa presidente Boldrini ma non voglio sono persone come me io non ho una preparazione come ma hanno delle idee abbiamo delle idee perché riteniamo che la politica la possa fare chiunque perché ognuno di noi ogni giorno fa politica Daniele chiudiamo con un'ultima finestra sull'Europa anche qui e qui avete un'unità di intenti credo cioè ci sia lo stesso modo di pensare verso l'Europa l'Europa che sta dominando grazie alla Germania l'economia internazionale quella europea soprattutto a discapito di noi italiani non avendo materie prime siamo costretti a comprare noi siamo trasformatori di materie prime vedi legno vedi ferro vedi motori vedi ghisa tutto quello che viene viene da fuori e noi poi lo trasformiamo abbiamo questa grande intelligenza creativa cosa che magari gli altri popoli non hanno tanto e poi ci copiano come fanno i cinesi e i giapponesi fatta questa premessa c'è anche la Lega Nord che vorrebbe che si togliesse l'Euro che vorrebbe che ci distaccassimo un attimo che uscissimo addirittura dall'Europa perché sostengono come voi che l'Europa ci sta opprimendo cioè ci sono questi sistemi occulti chiamali illuminati chiamali come ti pare che tendono tendenzialmente a far sì che il popolo italiano e in buona parte i popoli europei vengono messi a tacere devono primeggiare alcune situazioni soprattutto per quanto attiene l'economia che è l'asse portante è il potere primo potere che a livello internazionale detta legge il pensiero dei 5 stelle perché Beppe Grillo ce l'ha tanto con l'Euro e perché ce l'ha tanto con l'Europa di concerto anche la Lega Nord perché su questo punto di vista avete delle unità di pensiero allora preciso anche in questo caso per quello che ne so da attivista del Movimento 5 stelle che Beppe Grillo non ce l'ha con l'Euro lui innanzitutto tende a ribadire che devono essere gli italiani attraverso un referendum o comunque un sistema che possa determinare il volere dei cittadini italiani se continuare a utilizzare la moneta unica i motivi sono molteplici io purtroppo non sono un economista ma ho letto molti molti trattati in merito e mi sono fatto una semplice opinione da cittadino quindi non non sono un politico e lo tendo a specificare ma sono un cittadino ritengo che la moneta europea non abbia portato quei vantaggi che avrebbe dovuto portare a tutti i cittadini italiani e lo dimostra il nostro stato attuale economico tant'è che durante il V-Day 3 Beppe Grillo ha stilato dei punti che sono le fondamenta del programma che porteremo per la campagna elettorale per le europee e uno di questi appunto è quello di far decidere gli italiani e successivamente il nostro volere nell'eventualità in cui dovesse passare cosa molto improbabile lo penso anch'io che non sia un'uscita immediata dall'euro ma ci sia una moneta che affianchi l'euro per poter tornare indietro questo purtroppo non è una cosa che possiamo discutere qui a breve perché comunque sarà oggetto della prossima campagna elettorale però volevo precisare che non è un'intenzione esclusiva del Movimento 5 Stelle noi vogliamo rapportarci con i cittadini come facciamo ogni giorno in giro in rete come fanno i portavoci in Parlamento che in realtà per quanto si dica in realtà dialogano con le forze politiche presenti che purtroppo spesso e volentieri gli chiudono la porta in faccia o non permettono di entrare come è successo l'altro giorno nelle commissioni e quindi di conseguenza noi vogliamo il dialogo soprattutto con i cittadini che sono coloro che hanno dato il mandato al Movimento 5 Stelle che molto evidente potrebbero darlo anche in Europa io ringrazio Daniele Di Buono per essere intervenuto anche se qui non siamo a Roma quindi avrei potuto chiamare Beppe Grillo ma non sarebbe vero no comunque è stato abbastanza saustivo ci scusiamo per la pochezza delle domande e le risposte ma il tempo a disposizione è pure poco lui deve pure scappare se sono fatte le 13 meno 2 minuti alle 13 in punto questa trasmissione chiude quindi oltre a ringraziare Daniele Di Buono ringrazio voi mi auguro ci auspichiamo tutti quanti noi che finalmente la politica italiana voghi verso dei lidi più sereni più tranquilli dove l'orizzonte si può cominciare finalmente a vedere e dove davanti al tunnel che fino ad oggi insomma è tutto quanto al buio si possono accendere quelle lampadinette che ci consentono di uscire fuori e vedere finalmente il mondo in chiaro anziché vederlo in scuro come in questo ma soprattutto per i giovani che hanno necessità di trovare lavoro e di farsi anche loro la loro vita come abbiamo fatto quelli che oggi abbiamo 55 40 39 e via discorrendo questo è l'augurio che ci facciamo a voi che fate politica direttamente o indirettamente in bocca al lupo intanto per le future elezioni che ci saranno le europee già prima non si capisce ancora se si voterà ad interim anche per quanto attiene il governo nazionale ci auguriamo che insomma siano scelte fatte molto oculatamente per quanto attiene il futuro beh incrociamo le dita e speriamo che le nuove generazioni politiche da qualsiasi parte se provengono da destra sinistra e centro diano una svolta decisiva a questa politica obsoleta ormai che abbiamo in Italia e che chi da tanti anni siede al Parlamento lasci spazio ai giovani anche se poco preparati in politica beh hanno diritto anche loro a farsi la loro strada grazie a Daniele Di Mono grazie a tutti quanti voi per essere stati con noi grazie agli amici che ci stanno seguendo via web ma che ci stanno seguendo anche su Facebook grazie a tutti quanti l'appuntamento per domenica per la replica alle 9.30 di mattina per quanto mi concerne l'appuntamento adesso parleremo anche con le altre informazioni politiche per capire meglio per capirci noi stessi di cosa il futuro ci riserva almeno nella politica e verso dove andiamo grazie ancora un abbraccio grazie alla regia e cos'altro dirvi buon weekend buon fine settimana buon divertimento ciao